Buongiorno a tutti Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine che protegge ben tornati a tutti o benvenuti a chi si collega per la prima volta in diretta o magari attraverso questa puntata che è la numero 29 scolta per la prima volta qualcosa sul catechismo romano del concilio di trento quindi benvenuti o ben trovati a tutti e proseguiamo oggi il nostro percorso chi segue sta seguendo tutto quanto alla playlist saprà che siamo ormai da almeno tre quattro puntate in ascolto degli aure insegnamenti sul sacramento del battesimo che occupa uno spazio assolutamente prioritario oserei dire consistente per non dire proprio straordinario in quest'opera il che come abbiamo già avuto modo di considerare deve farcene comprendere l'assoluta importanza con la volta scorsa abbiamo proseguito il nostro viaggio non credo che terminerà con questa puntata sto dando una scorsa e forse nemmeno con la prossima quindi chi pensa di saperne già abbastanza magari può può omettere però capite se se ne parla ancora vuol dire che ancora non è abbastanza credo che sia un molto molto importante riflettere su quanto è importante questo sacramento perdonatemi la ripetizione di parole se è importante riflettere su quanto è importante ma a volte quando si parla in diretta possono accadere queste cacofonie nell'esprimersi di cui chiedo scusa e perdono comprendere l'importanza di questo sacramento significa anche comprendere l'importanza dell'evangelizzazione comprendere quanto è importante fare entrare nella chiesa nell'unica chiesa di cristo che è la chiesa cattolica le anime da salvare perché non sempre è molto chiaro che la passione e la morte di croce e la la passione di nostro signor gesù cristo proprio avuto come scopo principale primario il battesimo d'accordo perché il peccato originale e tutti i peccati commessi dal genere umano presenti passati e futuri sono stati espiati dalla dolorosa passione e morte di nostro signore l'applicazione di questi meriti infiniti tali da rendere la nostra anima veramente candida come la neve per cui tempo fa fece un'omelia chi è che va subito in paradiso peraltro i miei collaboratori hanno fatto un reel che è vicino alle 100.000 visualizzazioni mi pare che il reel si intitola quando si può dire che uno è volato al cielo oggi qua sono tutti volati al cielo qua sanno tutti quanti volando verso il cielo ma ragazzi e dicevo in colomeria che volano verso il cielo i bambini battezzati prima dell'uso della ragione e i martiri ci può essere qualche altro caso del tutto eccezionale che ne so la sorella di San Benedetto un caso famoso insomma che è santa scolastica ma fu vista la sua anima appena morta in forma di colomba fu sparata a correre verso il cielo ma santa scolastica chi conosce la vita cioè stiamo su un altro pianeta stiamo non si vola subito verso il cielo se vogliamo aggiungere un'altra categoria facciamo un adulto battezzato cioè se proprio viene battezzato e supponiamo io ti battezzo nel nome di Ego te battizzo in nomine Patris e Fili e Spiritus Santi Amen e ci manca il tempo di fare un piccolo pensiero di imperfezione che gli viene una sincope seduta a stante e quello vuole in cielo proprio senza nessun problema ma è stato un peccatore che ne ha fatte quante Carlo in Francia devo avere fatto tutto quello che gli pare il battesimo pulisce tutto su un adulto adesso lo sentiremo questa sera quindi non è uno scherzo la minimizzazione come dire la sottovalutazione di questo sacramento poi non parliamo del gravissimo peccato contro lo Spirito Santo uno dei più gravi che si possano commettere in questi tempi faccia molta attenzione a chi fa una cosa del genere dello sbattezzo che è sputarci sopra a tanta grazia cioè rinnovando un gesto che somiglia se pur lontanamente alla tracotante ribellione sprezzante di Lucifero cioè io a te non ti voglio io di te ne faccio a meno mi fai schifo il nostro signore prende atto di tutto perché nessuno è forzato nessuno è obbligato a fare nulla ma dobbiamo anche capire che nella stazione c'erano delle conseguenze quindi non ci stupisca questo per dire perché magari non ti viene stata ancora il battesimo eppure la prossima volta ancora il battesimo e forse pure tra due puntate ancora il battesimo è ancora il battesimo del battismo non quam satis potremmo parafrasare perché in questo sacramento è concentrato il merito cioè di tutto quello che si è fatto per noi cioè sapete che il battesimo perché sono così importanti i sacramenti che si possono i sacramenti sono sette li vedremo no alcuni sono unici battesimo cresima ordine e matrimonio matrimonio ordinariamente si ricevono una volta sola certo se muore uno dei coniugi si può risposare in chiesa ma ordinariamente è uno anche l'estremo unzione ordinariamente si riceve una volta sì si può ricevere anche più volte quindi non è tassativa però fondamentalmente sono sacramenti che si ricevono una volta sola quindi quali due rimangono che si possono ricevere con frequenza i ripetibili la penitenza e l'eucaristia ma la penitenza e l'eucaristia se uno ci pensa se fa attenzione non è altro che come dire un modo per fare in modo che gli effetti del sacramento del battesimo che si può ricevere una sola volta cioè la remissione dei peccati e l'infusione della grazia e la crescita quindi nella grazia sopravvivono nel tempo perché a che cosa serve la penitenza a cancellare i peccati commessi dopo il battesimo quindi alla remissione dei peccati che il battesimo resta da tutti a cosa serve l'eucaristia ogni volta che facciamo la comunione che succede? che la grazia di Dio in noi aumenta cresce quindi la grazia che abbiamo che è stata infusa nel battesimo e che è suscettibile di crescere o di diminuzione cresce con gli atti di virtù con la preghiera e con i sacramenti diminuisce col peccato veniale non cresce con l'imperfezione si perde col peccato mortale questo è il secondo effetto del battesimo perché insieme alla remissione dei peccati ci viene infusa la grazia santificata e tutte le virtù come vedremo quindi gli stessi sacramenti che si possono ripetere sono una sorta sto parlando in maniera metaforica non in maniera teologicamente come dire ferrea per far capire però sono sacramenti distinti e importantissimi ma da un punto di vista di effetti pratici sono applicazioni nel tempo prolungate del sacramento del battesimo tant'è vero che gli stessi padri della chiesa chiamavano la penitenza secondo battesimo l'ultima tavola dopo il nafragio ok adesso cominciamo con l'argomento di oggi 183 il condono delle pene dovute ai peccati 184 vedremo nessuna esenzione dalle miserie della vita speriamo di fare almeno anche il 185 se no veramente che è gli effetti del battesimo appunto infusione della grazia santificante e delle virtù allora il primo aspetto il condono delle pene dovute ai peccati con il battesimo non solo vengono rimessi i peccati ma vengono pure benignamente condonate da Dio tutte le pene dovute alle colpe ecco la prima differenza che c'è tra il battesimo e la penitenza perché con la penitenza vengono rimessi solo i peccati ma non le pene dovute alle colpe ecco perché dobbiamo fare penitenza dice per penitenza fai questo perché vengono rimessi i peccati ma non le pene dovute alle colpe perché tanto fa bene ricordarlo per i peccati commessi ci sono delle pene non è che finisce tutto così la dottrina cattolica su questo è unanime nel corso della storia del tempo è oggi che ogni tanto qualcuno sembra dimenticarsi e fa finta che non esistano certe cose salvo chiaramente come al solito andare contro duemila anni di tradizione interrotta infatti se tutti i sacramenti sono mezzi mediante i quali vedete viene comunicata l'efficacia della passione di Gesù Cristo del solo battesimo l'apostolo disse che ricevendolo moriamo e siamo sevolti con Gesù vedete cosa sta dicendo che tutti i sacramenti sgorgono dalla passione di Gesù ma il battesimo è proprio l'incorporazione con la passione alla morte di Gesù in base a ciò sentite la chiesa ha sempre sostenuto che non è possibile senza grave offesa al sacramento imporre al battezzando quelle opere di pietà che con parola corrente i santi padri chiamarono opere satisfattorie quelle contro cui Lutero e i novelli suoi seguaci si stracciano le vesti le opere satisfattorie io devo fare devo fare che devo soddisfare la divina giustizia che cosa sono queste cose queste cose astruse che è sta roba non ha già pagato abbastanza nostro signore tutte quante cose che oggi purtroppo si sentono a dire in giro volentemente ahimè ma dice nel battesimo non si fa penitenza non solo che non si fa penitenza sarebbe offesa grave al sacramento dire a un battezzando bene voti il battezzo poi però con la penitenza fatti un mese di digiuno no no non si può non si può perché tutte le pene dovute tutte le cose sono tutte quante scontanientate tutte quante azzeramento né ciò in contrasto con l'uso dell'antica chiesa che un tempo questo non lo sapevo non so voi imponeva agli ebrei che chiedevano il battesimo un digiuno di 40 giorni non lo sapevo io questa cosa detto scritto qui sicuramente è così con questa imposizione infatti la chiesa non intendeva far compiere un'opera di soddisfazione ma semplicemente ammonire gli aspiranti al battesimo a concepire una venerazione per la dignità del sacramento dedicandosi per un periodo di tempo ad assidui digiuno e previare era in ogni caso un'opera fatta prima non dopo è certo è certo dunque quindi certo dunque che il battesimo condona le pene dei peccati nessuno però viene esentato dalle pene cui sia stato condannato in virtù delle sentenze civili per qualche grave delitto vedete a quei tempi come c'era una correlazione un camminare insieme non dico una simbiosi ma tra la legge divina la legge della chiesa e la legge civile dice se qualcuno ha commesso qualche diritto se la sconta la pena il piano spirituale e il piano civile sono distinti chi è degno di morte non sfuggirà in vista del battesimo alla pena fissata per legge a quei tempi la pena di morte c'era ma sarà sempre degna della più ampia lode l'amitezza religiosa di quei sovrani sentite che per aggiungere decoro alla gloria di Dio nei sacramenti faranno grazia in tal caso ai rei e ai condannati sentite che bello uno è stato condannato a morte nel frattempo riceve il battesimo ma non c'è nessun diritto cioè il battesimo non ti esenta dal pagare la pena che la legge civile ti ha inflitto per i reati che hai commesso ma vedete vedete che belle queste cose qui io quando le sento non mi vergogno di dire magari passerò come fuori di moda dico io lo sogno un tempo in cui tornino queste cose in cui siamo sovrani cristiani cattolici onorati di essere tali rispettosi di nostro signore Gesù Cristo della santa fede divina e cattolica che dicono vabbè però sei stato battezzato e dai va diamo gloria a Dio gli condoniamo la pena gli facciamo la grazia io ho sempre detto mi sono detto a me stesso sognare non è peccato insomma no ma penso che queste cose non sia peccato neanche desiderarle d'accordo perché sapete i sogni lo potremmo anche sognare che ne so a titolo di sogno ma mi raccomando perché questo non si possono desiderare dicono i mistici San Giovanni e Santa Tredici sogno di vedere Gesù qui no possiamo desiderare di vedere Gesù in paradiso questo si può fare senza pericolo qui no non possiamo desiderare di avere esperienze straordinarie non dobbiamo cercarle né desiderarle però vabbè posso fare un sogno mi sono sognato che avevo visto il nostro signore i sogni avvengono in stato incosciente quindi non sono mai peccati no quindi sognare sicuramente non è peccato però in questo caso credo che anche desiderare non lo sia nel caso di rivedere uno scenario di questo genere forse molti si stracceranno le vesti però io no inoltre il battesimo ci libera dopo il corso di questa vita da tutte le pene inflitte per il peccato di origine noi infatti acquistammo il diritto a questa liberazione in virtù della morte del Signore ora nel battesimo come abbiamo detto noi moriamo con lui se come dice l'apostolo siamo stati innestati in lui nella somiglianza della sua morte lo saremo anche in quella della sua risurrezione attenzione a quello che ha detto cioè il battesimo ci libera dopo il corso di questa vita tutte le pene inflitte per il peccato di origine adesso ne vedremo alcune noi siamo liberati dalle pene inflitte noi siamo liberati dal peccato d'origine attenti bene e dalle pene dovute per i peccati attuali se è battezzato un adulto ma dalle pene dovute per il peccato d'origine siamo salvati attraverso il battesimo dopo questa vita qual è la dimostrazione scusate moriamo? sì morire è una delle pene dovute al peccato d'origine controllare il capitolo del suo libro della Genesi siamo soggetti alle malattie? sì siamo soggetti alle sofferenze? sì siamo soggetti alla concupiscenza? sì la natura è ancora in stato di ribellione verso di noi? sì non è che ci servono i film terremoti alluvioni catastrofi animali che ci rivoltano contro sì dolori del parto? sì quindi concupiscenza e disordine nei rapporti tra uomo e donna verso di te sarà il suo estinto ma egli ti dominerà? sì tutti eh non ne manca uno tutti quanti tutti perché da questi bambini o adulti hanno la stessa sorte saremo liberati dopo la morte e infatti perché? perché il battesimo ci innesta nella morte del signore e nella sua risurrezione ma gli effetti benefici della sua risurrezione in ordine alle conseguenze del peccato origine li gusteremo dopo la morte non prima ed è per questo che nel numero 184 si dice nessuna esenzione dalle misere della vita quindi non andate a pensare che se sei battezzato e viva e viva è tutto finito no qualcuno potrà chiedersi perché subito dopo il battesimo non siamo liberati anche in questa vita dai mali scaturiti dalla colpa e reintegrati in quel perfetto stato di vita goduto da Adamo primo padre degli uomini antecedentemente al peccato e perché non compie questa trasformazione col santo lavato cioè perché il battesimo non ci fa tornare nell'Eden detto proprio in termini prosaici perché poteva anche essere così no due ragioni possono addursi in questo perché qualcuno se l'ha chiesto no come mai non è peccato in teologia non è peccato farsi delle domande in vista della ricerca di qualche risposta non certamente per mettersi a contestare quello che Dio fa no dice vabbè poteva succedere anche questo sì se non è successo ci saranno delle buone ragioni perché non è successo quali potrebbero essere eccole qui la prima è questa noi congiunti mediante il battesimo al corpo di Cristo e divenuti i suoi membri non potevamo essere insegniti di una dignità maggiore di quella che è stata conferita al nostro capo attenzione guardate che questo è proprio geniale ora nostro Signore Gesù Cristo per quanto in possesso fin dalla nascita di ogni pienezza di grazia e di verità penso che nessuno questo lo metta in discussione tuttavia quando era sulla terra non depose la fragilità della natura umana da lui assunta tanto è vero che ha sofferto e che è morto prima di aver affrontato i tormenti della passione della morte risorgendo poi alla gloria della vita immortale e allora quale meraviglia se i fedeli già in possesso della grazia della celeste giustizia in virtù del battesimo continuano a essere rivestiti di un corpo fragile e caduco e sono costretti ad affrontare copiose sofferenze per Cristo a subire la morte e ad aspettare il ritorno in vita per essere degni di poter con lui il tempo eterno vedete tu sei più grande di lui lui è venuto sulla terra pur avendo la pienezza di grazia di verità eppure essendo peraltro dio da dio luce da luce di vero ma ha condiviso in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana la fragilità la soggezione Gesù aveva freddo Gesù aveva caldo Gesù aveva fame Gesù aveva sete Gesù aveva sonno come noi Gesù era passibile alla sofferenza quindi aveva un corpo vulnerabile se gli dava una coltellata gli faceva male poteva ucciderlo guardate che per un corpo risuscitato queste cose non si possono fare eppure non essendo soggetto alla morte perché sapete che la Madonna non è morta perché? perché nessuno l'ha uccisa Dio non l'ha permesso quindi se non cadi in morte violenta non puoi morire né di malattia né di morte naturale senza peccato originale però Gesù è morto di morte violenta perché doveva redimerci però alla morte violenta era soggetto certo lui poteva sottrarsi in quanto Dio in qualunque momento come disse al Gezzemani chi cercate sono io viene il principio di questo mondo egli non ha nessun potere su di me ma bisogna che io faccia quello che il padre mi ha ordinato a Pilato gli disse tu non avresti nessun potere su di me se non ti fossi trattato dall'alto quindi lui si è lasciato catturare si è lasciato uccidere rinunciando ad esercitare il potere divino di sottrarsi da questa cosa però perché perché ha voluto che il suo corpo fosse soggetto a queste cose e io che sono battezzato dovrei avere una condizione superiore alla sua ma anche no no vedete la testa che c'avevano questi io non lo so se ci sarei arrivato da solo perché non lo so se ci sarei arrivato a una conclusione di questo genere anzi dubito poi c'è una seconda di ragione qui facciamo un po' di suspense vediamo se qualcuno che ascolta in diretto è indifferito quale potrebbe essere la seconda ragione suspense finita la leggiamo ed ecco la seconda ragione per cui in noi rimangono anche dopo il battesimo la debolezza del corpo le malattie il sentimento del dolore i moti della concubiscenza alcuno di quelli che avevo elencato prima ci si volle lasciare un'abbondante messe di possibili meriti per conseguire un più ricco frutto di gloria e più magnifici premi è chiaro che se come oggi intanto si sente dire in giro se tu ti dimentichi che la virtù c'ha un premio così come il peccato c'ha un castigo questa cosa è completamente finita perché non è affatto la stessa cosa che tu ti prendi una malattia e la offri al Signore io qualche giorno fa non faccio nomi e cognomi sono venuto a conoscenza di una storia chi lo sa se un giorno sarà portato a conoscenza della chiesa di una delle tante ragazze una ragazzina morta da santa o come il mio amico Francesco come una testimonianza veramente eroica mica la stessa cosa una roba così è una persona che si ammala bestemmia si arrabbia e mora senza mal consacramento non è la stessa cosa non lo è non avranno la stessa la stessa sorte è impossibile una cosa del genere quando infatti tolleriamo con pazienza gli incomodi della vita e con l'aiuto di Dio sottoponiamo i malvagi istinti del nostro essere al gioco della ragione dobbiamo farci forte della speranza che se avremmo combattuto come l'apostro una buona battaglia se avremmo compiuto la corsa e conservata la fede il Signore Giusto Giudice ci darà la preparata corona della giustizia nel giorno destinato non è la stessa cosa tu c'è il stimolo della concupiscenza mica la stessa cosa che tu lo assecondi e fai il peccato impuro oppure resisti e non lo fai quanto è oggi primo ormai siamo molto vicini alla festa della San Francesco San Francesco dice si San Francesco ma anche San Paolo ha avuto una cosa del genere perché ce ne parla nelle lettere San Francesco per non fare un peccato impuro una volta si è buttato in mezzo a Roveto e basta andare alla Porziuncola per vedere Roveto trasformatosi in Roseto e un'altra volta si è rotolato nudo nell'anello perché pure su La Verna cioè a impazzire capito chi è uomo ne sa queste cose qui nell'uomo la concupiscenza in certi momenti pazzisce anche senza una causa adeguata perché se la grazia di Dio ci lascia quella è una scheggia impazzita e che fai? a secondi o ti butti nudo dentro la neve se la tentazione è forte o ti fai una bella doccia gelata che ti passano tutti i bollenti spiriti scusate no? che è la stessa cosa? ma anche no questa dimensione della vita cristiana ma questo vale anche in giro esistono i meriti a cui corrispondono dei premi così come esistono i peccati i deme a cui corrispondono delle pene punto si chiama giustizia si chiama Dio è misericordioso ma è anche giusto ed è giusto la sua giustizia è rigorosa tanto quanto grande la sua misericordia non si possono mai disgiungere queste cose perché io parlo spesso della giustizia? perché mi diverto no perché oggi se ne parla poco io questo fin da quando ero un giovanissimo prete ho preso coscienza di questa cosa ignorare questa dimensione è un male per le anime è un danno per loro sia per la vita presente ma anche per la vita futura proseguo così del resto il Signore trattò i figli di Israele li liberò dalla servitù degli egiziani sommergendo nel mare il farone il suo esercito vedo una figura del battesimo ma non li introdusse subito nella terra anzi li sottopose prima a molte e amare prove esodo 14 24 se qualcuno c'è qualche dubbio molte e amare prove non poche molte e anche dopo aver dato loro il possesso della terra promessa pur scacciando dalla loro dimora i primi abitanti lasciò qualche popolo che non fu possibile distruggere basta vedere i primi giudici perché così non mancasse mai al popolo di Dio l'occasione di esercitare la sua fortezza è il coraggio bellico cioè nostro signore non ci fa cioè dimentichiamocelo questo fatto qui cioè nostro signore non è che ti dice ah adesso ti rendo proprio la vita spianata comoda liscia nessun problema nessuna tentazione nessun fastidio nessuna tribolazione nessuna prova in quale vangelo sarebbe scritto una cosa del genere o per i cultori che oggi dove sta scritto nella Bibbia oggi è una cosa in quale luogo della Bibbia sarebbe scritto una cosa del genere se non dentro la testa come dire non sempre perfettamente connessa nostra non si è scritto da nessuna parte inoltre se attraverso il battesimo oltre ai doni celesti che freggiano l'anima perché questo è quello che ci dà venissero elargiti anche i beni corporali che ci verranno elargiti ma dopo la morte si potrebbe sospettare che molti l'avrebbero chiesto più per i vantaggi della vita presente che per la sperata gloria della vita futura il cristiano invece deve avere sempre dinanzi agli occhi non i falsi e caduchi i beni sensibili ma i vedi ed eterni che sono invisibili noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili scrive San Paolo le cose visibili sono di un momento quelle invisibili sono eterne del resto si continua anche l'attuale vita satura com'è di misere e di dolore non manca di gioia e di soddisfazione affatto siamo nella tribolazione a voglia però è bella la vita a voglia è bellissima come sovrabbondano le sofferenze di Cristo in me così abbondano anche le consolazioni questo è sempre San Paolo è stata la vita terrena di Gesù e di Maria loro non potevano avere una gioia senza un dolore ma è anche vero che non c'è un dolore senza una gioia alle mie spalle c'è un bel quadro si vede un po' sfocato di Santa Gemma Gagliani lei diceva in questa terra la legge è patire amando nell'altro mondo è godere amando minimo come un denominatore è l'amore solo che qui l'amore si dimostra soffrendo e di là si vive godendo non è tanto difficile no a capirlo poi a farlo magari un po' un po' più impegnativo quindi l'attuale vita non manca i giorni di soddisfazione dopo che il battesimo c'è nel stadio a Cristo come tralci a ramo la parabola della vita non sono una vita oltre alci non c'è nulla di più dolce e desiderabile che prendere volenterosamente la croce sulle spalle e seguire le sue orme come hanno fatto tutti i santi nulla di più degno che superare coraggiosamente fatiche e pericoli per conseguire con ogni sforzo il premio della divina chiamata essa sarà per alcuni guardate che bello l'alloro della verginità per altri la corona della dottrina della predicazione la palma del martirio o l'insegna trionfante di qualsiasi altra che bello qui cita i tre stati di eccellenza che ci sono in paradiso che ci sono la sommateologia di San Tommaso le tre condizioni eccellenti quali sono? la verginità e qui è verginità verginità qui mi dispiace amici cari qui è verginità verginità punto e basta è chiaro che una persona che si ha perso la verginità col pentimento col perdono può riacquisire la verginità interiore la verginità dell'anima tutto bene ma la verginità la verginità è chi non ha conosciuto donna o chi non ha conosciuto uomo non conosce che cos'è l'amplesso carnale scusatemi se sono così prosaico poi i dottori la corona della dottrina e della predicazione i dottori i confessori e terzo i martiri questi sono quindi quelli che al nostro signore hanno dato perché dare la verginità quindi dire io non conosco questa roba cioè zero neanche nella forma lecita è un sacrificio o no non sta tutto quanto il mondo piegato come un totem nei confronti di ogni sorta di schifezze lussuriose tutti quindi dire no è caspita la corona della dottrina e della predicazione la dottrina prima di darla la devi acquisire devi studiare devi devi studiare tanto devi leggere tanto non è che te le inventi le cose devi padroneggiarle devi essere sicuro di quello che dici e non sicuro delle cretinate delle farneticazioni che ti scondano la bocca tua cioè che quello che dici è la sana dottrina cattolica custodita trasmessa insegnata da papi da concili da dottori da santi sul martirio non c'è bisogno di spendere parole perché il martirio è il dono supremo di se stessi è anche abbastanza impegnativo simili titoli d'onore non potrebbero essere distribuiti se in antecedenza non avessimo attraversato questa vita di amarezze e combattuto vittoriosamente l'aspra battaglia aspra battaglia quindi evviva le sofferenze e le condizioni ancora misere che permangono dopo il battesimo perché primo non siamo più grandi di nostro signore e secondo abbiamo modo di dimostrare il nostro amore di crescere in grazia in santità e in meriti combattendo e vincendo nel suo nome chiaramente con la sua grazia poi ultimo paragrafo effetti del battesimo infusione della grazia santificante e delle virtù questa è un'altra cosa meravigliosa allora per tornare agli effetti del battesimo i pastori dovranno far comprendere come virtù di questo sacramento non solo siamo liberati da quei mali che veramente sono i più gravi fra peccati ma siamo anche arricchiti di singolari privilegi e favori infatti l'anima viene ricolmata della grazia che ci solleva la dignità di giusti di figli di Dio di erediti dell'eterna salvezza questa è la nostra dignità sta scritto chi avrà creduto e sarà battezzato si salverà Marco 16 16 sta scritto chi avrà creduto e sarà battezzato si salverà questo sta scritto e l'apostolo dichiara che la chiesa è purificata nell'avago dell'acqua accompagnata dalla parola di vita si tratta di una grazia che secondo la definizione del concilio tridentino sanzionata dalla pena della scomunica per chi non ci crede quindi una grazia che non solo rimette i peccati ma inerisce questo è il termine tecnico come proprietà divina all'anima ma ci rendiamo conto la grazia santificante è simile ad uno splendore di luce che distrugge tutte le macchie delle anime nostre le rende più belle più rilucenti questo è il concilio tridentino è contro l'utero che negava questa cosa qui che dice no tu rimani peccatore il battesimo è semplicemente un'applicazione estrinseca dei meriti di Cristo che ti coprono come una coperta ma tu peccatore sei peccatore rimani no 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 anche questo fatto oggi peccatore 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 ci sono alcuni movimenti ecclesiali che ne fanno in un totem l'ho detto tante volte cioè in che senso ma non voglio di farlo perdone se tu dici per peccatore intendi che abbiamo appena visto ti rimangono le tendenze al mare la concupiscenza l'inclinazione le passioni che sono impazzite quindi che devono essere dominate con uno sforzo della volontà sul concilio della grazia ah in questo senso siamo tutti peccatori e inevitabilmente come spiegano i dottori cito proprio uno per tutti Sant'Affonso Maria per i cuori a causa di queste cattive tendenze noi non possiamo parare tutti i corpi quindi non possiamo non peccare mai di difetto o di debolezza venialmente e né tantomeno parare tutte quante le imperfezioni per questo che diciamo con verità tutti i giorni l'atto di terrore il confesso più lo diciamo meglio è ma capite che questa è un'altra cosa dall'essere peccatore peccatore cioè fare peccati mortali e fare peccati volontari questo non ci rimane come condizione questo lo scegli tu se fai degli atti di volontà calpestando la grazia di Dio che hai ricevuto questo deve essere chiaro questo qui deve essere chiaro amici cari c'è la scomunica per chi non ci crede in questa cosa non è che oggi non c'è più c'è ancora la scomunica perché quando un concilio fosse anche dei 500 anni fa dice guarda che chi non crede in questa venità è scomunicato non è che oggi non è scomunicato più perché sono passati 500 anni è scomunicato lo stesso scomunicato fuori della comunione con la chiesa per il fatto stesso di non credere a questa dottrina perché l'eretico ricordatelo è ipsofatto scomunicato anche se manca cosa ordinariamente necessaria una sentenza dell'autorità ecclesiastica che dichiari formalmente questa cosa ma un eretico formale impenitente per il fatto stesso di esserlo è già fuori dalla chiesa non appartiene alla chiesa altro che peccatore le nostre anime sono belle rilucenti uno splendore di luce che distrugge tutte le macchie questa è la grazia santificante ma capite la scrittura del resto lo fa intendere quando dice che la grazia viene infusa romani 5-5 proprio quella lettera che precede tanto a Lutero per dire tante le clitinate che ci ha detto sopra e la definisce pegno dello spirito santo ma non è finito qui la grazia santificante non è finita ancora si aggiunge il nobilissimo corteggio di virtù che accompagna divinamente l'ingresso della grazia nell'anima le virtù tutte le tre teologali e le quattro cardinali scusate che ce l'ho qui davanti chi vuole approfondire queste cose facciamo un po' di pubblicità la vita morale e le virtù cristiane queste cose che abbiamo appena letto si trovano dentro questo libretto che ho scritto un po' di tempo fa disponibile su tutti gli store per chi lo vuole e anche gratuitamente per chi non vuole comprarlo sugli store di apple di google sul mio sito web in forma elettronica date lo scaricate è lo stesso aggiornatissimo quindi e non costa neanche un centesimo ok ho dovuto fare il cartaceo come di tante altre cose perché molta gente me l'ha chiesto e quindi però purtroppo i cartacei stamparli costa e quindi non sono gratis però le virtù tutte sono tutte quante infuse tutte quante cioè vuol dire che tu crescendo te le trovi già dentro devi soltanto esercitarle e farle crescere ma sono già infuse insieme con la grazia santificante anche perché le virtù teologali se non fossero infuse non potremmo acquisirle da sole cioè le virtù cardinali conosciute anche dai filosofi pagani tipo Aristotele tanto per fare un nome tu la prudenza la puoi acquisire la giustizia la puoi acquisire la temperanza la puoi acquisire la fortezza la puoi acquisire ma la fede la speranza e la carità no eh non si possono acquisire sono virtù infuse non sono virtù acquisite solo che col battesimo anche quelle che si possono acquisire te vengono infuse pure quelle più la grazia ma ci rendiamo conto quindi si aggiunge il nobilissimo corteggio di virtù che accompagna divinamente l'ingresso della grazia nell'anima quindi entra l'anima con il corteggio delle virtù entra la grazia con il corteggio delle virtù guardate immaginare questa scena scrive l'apostolo attito Dio ci salvò mediante l'aboluzione rigeneratrice e rinnovatrice dello spirito santo diffuso copiosamente in noi per Gesù Cristo nostro salvatore e Sant'Agostino commentando le parole diffuso copiosamente le interpreta appunto come allusiva al perdono delle colpe e all'infusione delle virtù per il battesimo siamo congiunti intimamente con Cristo come membra col capo orbene dal capo emana l'energia che muove le singole membra del corpo al compimento delle rispettive funzioni così dalla pienezza di Cristo rifluiscono nei giustificati cioè i battezzati quella divina virtù e quella grazia che ci rendono idonei a tutti i doveri della vita cristiana non desti sorpresa il fatto che nonostante siccopioso sussidio di doni dice ma come con tutti questi doni come faccio così fatica io a far bene allora risposta non desti sorpresa il fatto che nonostante siccopioso sussidio di doni non possiamo iniziare a compiere azioni pie e rette senza penose difficoltà e sforzo intenso non date retta a chi dice ah le virtù no no il signore te le fa dentro di te e tu la praticherai senza sforzo ma 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 chi la dette queste gretinate qua non stanno scritte da nessuna parte anzi sono proposizioni formalmente eretiche lo sforzo e la difficoltà è insito ma come con tutte queste grazie queste cose poi te lo spiega ciò non significa che non ci siano state concesse per beneficio divino le virtù da cui scaturiscono le azioni si deve dire piuttosto che anche dopo il battesimo è restata la possibilità attenzione dell'irriducibile duello fra carne e spirito noi siamo tesi ho detto che rimanga la concupiscenza la concupiscenza non è soltanto lo stimolo libidinoso perdonatemi anche la la chiarezza prosaica ma è la tendenza al male ad assecondarle tutte le passioni da cui sgorgono i sette vizi capitani ma non ce l'ho qua l'altro testo a disposizione per chi volesse approfondire sette vizi capitani sgordano dalle nostre passioni maldisposte tutti quanti e dominarli non è facile quindi c'è questo riducibile duello San Paolo parla ma esso non deve piegare o spezzare il coraggio del cristiano fiduciosi nella misericordia divina ecco la retta fiducia nella misericordia divina questa dobbiamo dobbiamo piuttosto sperare che nell'esercizio quotidiano del retto vivere riusciamo a ritenere facile e piacevole quanto è onesto e giusto e santo in che senso diventerà facile e piacevole che se tu ne hai un'altra considerazione te ne innamori del bene e della virtù nonostante la fatica che ti costa lo farei volentieri questo va bene questo qui ma non senza fatica e senza sforzo riusciamo a ritenere facile e piacevole quanto è onesto e giusto e santo vedete pensandoci volentieri uniformandovi le nostre azioni affinché il Dio della pace sia con noi questo certo non è così stiamo comprendendo perché si dilunga tanto io sinceramente vi dico sono preti da vent'anni quando leggo e commento queste cose per me è un godimento estremo non c'è proprio nessunissima fatica nel fare queste cose perché è un gongolamento perché non godo dell'ingiustizia ma si compiace della verità il nostro intelletto è stato fatto per questo siamo stati creati per questo quindi quando si entra in contatto con questo si provano i veri e grandi diletti dell'anima che sono ben superiori ai bassi beceri sozzi piaceri della carne bene amici appuntamento per chi vuole alla prossima puntata laudentur jesus et grazie 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 Grazie.